Oh, abbracciati il collo con tutta la tua forza finché... Non dategli confidenza. Non sta sbagliando, mi vuole fare del male. Mi insulta sempre così, passa ogni giorno, mi dice di ammazzarlo e poi dice di che ha sbagliato chat. Ciao Marco! F***o coglione. Marione, vita mia, berru, come ti senti per... Grazie dell'understanding, raga. Marco, vai a fare in culo, coglione. Come ti senti riguardo l'uscita di Spark in Zero? Non ne posso più. Vabbè, terribile. Non solo, bro, non solo ti chiamo coglione. E spero che questa sia la serata peggiore della tua vita, o della tua vita se preferisci. Perché ho paura anche se sono a chilometri e chilometri di distanza? Grande Mario, mi hai fatto pisciare sta cosa che... Dai, Marco, ma ti prego! No, sto per piangere, dai, non è vero. Marco non piange, piange raramente già. Figuriamoci se si piange per queste cose. Non gliene fotte un c***o, al massimo gli dà qualche fastidio. Non empatizzate con lui perché vi sta prendendo in giro e vi userebbe soltanto. Unghe, unghe. Cioè, quello è l'onomatopea del bambino che piange. Mentre Marco è del 1989. Quindi, quanti anni ha? 35, 34? Tantissimi. Non piange più in questa maniera. Al massimo fa... Mio padre, Orazio Sturniolo, in chat! Orazio Nazionale. Mario, ti voglio bene, non ti farei mai, mai male. È la cosa che mi preoccupa di più di oggi. Che cos'è questa manifestazione d'affetto? E voi stupidi che ci credete? Un saluto ad orazione. Ah, perché c'è mio padre in chat. Papà, Marco ha detto che mi scrive ogni giorno modi per ammazzarmi. Mi consiglia dei modi per ammazzarmi. E poi dice che ha sbagliato la chat. Marco è un'anima buona. Ma sei un c***o di porco d'oro. Ma che cavolo dici? Ma vi pare che Marco si esprimerebbe in questa maniera? Non è vero? Sei un bugiardo? Ah, io sono un bugiardo. Diffamazioni. Può succhiare il c***o. Abbiamo lo stesso avvocato, io e Marco. Non lo può utilizzare. Allucinante. A dir poco? Non ti denunzio solo perché. Non ti denunzio. Con la z e poi non compedi manco la frase perché non ti volevi impegnare più. Marco ha un cuore d'oro. Non ti permettere. Denunzio è un latinismo. Ma tu pensi davvero che Marco Merrino sappia esprimersi il latinismo? Marco, solo per quanto è simpatico, beh, pet donalo. Papà, hai sbagliato a scrivere per donalo, porco d***o. Sta reclamando i danni morales. Minchia, poi si chiama bene dai. Tu sì che hai dato un grande apporto a questo momento che sto amando. Mario dovresti pet donalo. Ma guarda là che lo prende in giro pure Marco, assurdo. Marco non ti denuncia solo perché sei un amante della pasta. Marco lo sa che sono un amante della pasta. Infatti mi ha cucinato dei piatti incredibili di pasta. È uno dei piatti migliori che abbia mai assaggiato. A parte la carbonara sbagliata dove lui era presente. Sa quanto era buona perché l'ha mangiata lui. furono dei chicken al freddo che fece Marco. Mario dovresti pet donarmi. Ok. Non è pasta con lo smegma. Sono delle fettuccine col burro. Casomai pasta non chicken al freddo. No, 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 no. Si chiama chicken al freddo la ricetta perché nel piatto avevo sia le fettuccine al freddo fatte col burro e con il latte, penso una cosa del genere, e accanto mi aveva fatto anche del pollo fritto. Era un pasto incredibilmente merrimiano, se posso dire. Molto buona, molto buona, molto buona, molto buona. Contiamo quanti si disgustano. Uno, due, vabbè, ma tanto non capiscono un c***o. Ma tra l'altro, ragazzi, lo fate per un motivo veramente strano. Perché voi volete fare gli italiani, però poi, a un certo punto, quando si deve parlare del fatto che sia inutile sentirsi italiani, voi salite anche su quel carro. Mi fate cagare. Cosa? La pizza americana! È buona. La carbonara con la panna, ragazzi, se si sa cucinare, è buona pure quella. È buona pure quella. Però, penso che verso i 13-14 anni, quando c'erano i meme su Facebook dove dicono La carbonara con la panna, c'è un girone per l'inferno anche per voi. Voi, con tutta l'acne in faccia, che vi giravate avendo paura che fosse tornato vostro padre con un bastone di legno acuminato, stavate là facendo Ma se lo condivido, la gente poi mi like e mi vuole bene. Ok. E poi vi siete dimenticati che quella cosa non era una vostra opinione, ma un tentativo di essere animali sociali. E vi siete scordati che la carbonara si può fare pure con la panna. Date una medaglia a quell'uomo. Datela a tutti quelli che fanno la carbonara con la panna. Non si sentono giudicati. Non riesce a esprimere un'opinione, senza insultare nessuno. Penso che oggi abbia espresso un'opinione a te senza insultarti, invece. Io non voglio nessuno, nemmeno più insultare. Posso solo minacciare di togliermi... No, non devi toglierti niente. Su ricurri. Va bene farla con la panna. Semplicemente non la chiamo carbonara. Io invece la chiamo carbonara e ti richiamo pezzo di merda e figlio di... E devono mantenere la loro integrità, ma alla fine vogliono assaggiarla di nascosto. Guarda, va bene tutto. Però non me la chiamare amatriciana. se ci metti il pomodoro giallo. La carbonara vegetariana ci metti il seitan. Va bene tutto, ma non la chiamare carbonara. No, ma la chiamano così perché è il correlativo del pasto vegetariano. Ma... Quella non è carbonara. Quella non è carbonara? Io mi rifiuto. La carbonara si fa con il guanciale. Pronto, c'è soltanto la pancetta. Non trovo il... Non trovo il... C'è la pancetta. Possiamo prendere la pancetta per fare la carbonara? Sì, ma non sarà carbonara. Cosa? Non faremo la carbonara se non c'è il guanciale. Quindi... Quindi la prendo. La prendo. Prendo la pancetta. Se vuoi fare pasta con l'uovo e la pancetta prendila pure. Ho trovato il guanciale. Allora possiamo fare la carbonara. Ti saluto. Ottima transizione. Esistono veramente persone così? Allora non la chiamare. Ma chi c***o sei il padre eterno? La carbonara? Col seitan. I poveri vegetariani invece di dire uovo è quello dicono quello. Ragazzi, non è minata alcun tipo di ramo culturale. Tranquilli. E se ci metto lo sburo è carbonara. Filippo, la tua volgarità mi disgusta. Poi la carbonara è una delle ricette meno italiane. Diverse fonti dicono che sia nata con il bacon. Sì. Allora ragazzi, non chiamiamo pizza margherita quando non è fatta con il fior di latte napoletano. La panna la cambia abbastanza da non definirla carbonara. È come dire che gricia con tuorlo rimane gricia. Ma che discorso da figlio di p***a da non definirla carbonara. La carbonara è stata interpretata con insaccati e con latticini diversi da sempre. Cioè, è incredibile. Cioè, cento anni fa la facevano col bacon e poi arrivi tu. Non è possibile definire la carbonara se non sento il gusto del guanciale. E sono tutte p***e, ragazzi. Sono tutte p***e. Confermo, ho inventato la carbonara. Abbiamo l'inventore della carbonara in chat. Resezio. Resezio. Vuoi parlare di come la carbonara si può intendere, per favore? La carbonara la faccio col carbone. Sì, ma porca p***a l'uovo e la panna sono due cose completamente diverse. Ehi, qualcuno si è arrabbiato per l'argomento cucina. Hai mai provato la carbonara dell'MD? Io mangio pure la carbonara che si compra al supermercato surgelata. me la scongelo e me la mangio. Hai capito? Avete capito cosa faccio? Avete capito? Ma ci metti il pecorino? O ci metti il parmigiano? Ci metto il par... Ma allora non la vuoi chiamare carbonara. Non è definibile carbonara se ci metti il parmigiano. E qua tutte le persone che stavano scrivendo che la carbonara si fa in un certo modo si sono ricordate che come topping mettono il parmigiano e se sono così... Se una ricetta cambia anche un solo piccolo ingrediente non è più quella ricetta ma un'altra. È semplice logica. Gli italiani che si arrabbiano col mangiare sono i miei preferiti perché sembra davvero che sia una causa personale. Nario non hai ragione se gli ingredienti sono diversi non è... Ma chi è che vuole la ragione? Oh no! Mi ha tolto la ragione! No no! Io sto esprimendo che si fanno battaglie perse. Non c'entra niente! Non hai ragione! Io pensavo che si potessero arrabbiare le persone per un fumetto ma per la pasta! Ma no! Fai anche quella faccia Mario ti prego! È vero! Non hai ragione! Costa! La prima ricetta originale della carbonara è stata depositata da Gualtiero Marchesi nel 1989 e in quella del 1954 invece era prevista la panna. Ci sarà un motivo per il quale dici Gualtiero Marchesi mentre per il 54 non mi nomini nessuno. Nella cucina italiana la cucina non ha ricette precise come in quella francese per esempio quindi non può esistere il concetto di cambiare un ingrediente e cambia la ricetta. Stefano ma l'ha detto un figlio di put***a l'ha detto un cuoco ma pure gli rispondi non so io in genere butto dentro smegma panna dai che schifo la pasta con il tonno senza grana chi mette il formaggio sulla pasta col pesce è davvero un criminale. Qua sono d'accordo con loro. come c***o fate ragazzi smettetela per favore no 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 tonno va bene tonno va bene tonno va bene perché non è un pesce fresco io parlo del pesce fresco se è pesce surgelato quello che è ma fate quello che c***o volete è un peccato togliere il sapore del pesce fresco questo dico tonno va bene sì ho detto tonno va bene perché apri la scatoletta la metti il parmigiano io metto il parmigiano sulla pasta con i legumi qualche volta non sempre ma con i... che c'è? tu non mi piaci la pasta con i legumi non ha né da nessuna parte la ricetta del formaggio e quindi non la puoi chiamare pasta con le lenticchie e come la devo chiamare? pasta di qualcuno che non merita di mangiare la pasta con le lenticchie e quindi